Si è tenuta questa mattina presso il Salone dei Marmi del Palazzo Arcivescovide di Salerno la conferenza stampa della Diocesi sull'ordinazione di Monsignor Andrea Bellandi, nuovo arcivescovo della Diocesi di Salerno Campagna a Cerno. Un evento preparatorio alla consacrazione episcopale ufficiale dell'arcivescovo che avverrà sabato 6 luglio nella Cattedrale di Salerno. Da qualche mese che stiamo lavorando, appena abbiamo avuto la notizia, certamente la Diocesi, così vasta, oltre 550.000 fedeli, più un territorio esteso, aveva bisogno di un pastore solido e il Santo Padre, come avete potuto vedere dal curriculum di Monsignor Bellandi, ha esaudito un po' le nostre richieste. Lui è stato professore, è stato preside della Facoltà di Teologia dell'Ale Medionale, soprattutto ha lavorato con i giovani all'università, ha lavorato con il clero e poi è revicario generale. Ma quello che metteremo in evidenza per noi va visto questo dono nell'ambito della fede, fa parte della successione apostolica, questa catena ininterrotta è successore di San Matteo, il nostro patrono. Sicuramente abbiamo fatto qualche battuta perché gli incontri lui ha preferito così, in tono familiare, è un indiscambio di opinioni, non ci siamo messi ancora al tavolino per vedere che cosa fare, ma anche dall'intervento che ha voluto fare all'università, per me molto significativo, la nostra attenzione sarà nel solco di continuare quel lavoro della nostra Chiesa che accoglie, accompagna e guarisce, con attenzione particolare ai giovani e al mondo universitario, anche perché lui a mari anni ha lavorato all'università proprio con la pastore al giovenino e la famiglia. Sono le due emergenze che stiamo attenzionando da alcuni anni, ma anche in quel cammino che è sia del Papa ma anche della Conferenza Episcopale Italiana.